Fondamentalmente gli ultimi farmaci cercano di ripulire letteralmente le cellule nervose da queste proteine patologiche che sembrano essere responsabili della malattia. Il tentativo è o di inibire la produzione di queste proteine oppure di creare una risposta immunitaria attraverso dei vaccini o dei anticorpi mirati contro queste proteine per letteralmente ripulire il cervello dalle proteine patologiche. Purtroppo al momento non vi sono dei farmaci che si sono dimostrati sicuramente efficaci nel ridurre l'avanzamento della malattia.